Consigliere Blasioli, siamo in Commissione Consigliare, prima, terza e quinta congiunta per l'esame del progetto legge 118. Il Partito Democratico ha presentato un importante emendamento sulle zone rosse. Intanto precisiamo che è un progetto di legge che è stato completamente stravolto rispetto al 118 iniziale. Si è passati da 18-19 milioni a quasi 57 oggi in Commissione e ancora oggi ci sono tanti emendamenti che stravolgono il testo della legge che probabilmente andrà domani in Consiglio. In tutti questi fondi, in tutti questi articoli non c'è nulla per quanto riguarda le zone rosse della regione Abruzzo né per la contrada Caldari di Ortona, né per quelle dell'area Vestina, né per la Valfino. Nulla di nulla. Un solo emendamento, l'abbiamo presentato noi del Partito Democratico questa mattina con le nostre firme riguarda tutte le zone rosse abruzzesi. Un milione e mezzo di euro. 220 mila euro con una quota fissa di 20 mila euro per comune, per rimbinguare i fondi del comune sui fondi della sanificazione, della differenziata, dei DPI per la protezione civile e per gli altri cittadini di questi comuni e altri 1 milione e 280 mila euro invece che verranno utilizzati dai comuni che non accedono ai fondi nazionali per le zone rosse per le micro e piccole imprese. Fino a 2 mila euro fondi naturalmente che serviranno a questi piccoli imprenditori per poter ripartire dopo il lockdown.